Una per Tucci In fondo in questa famiglia non si sta male Il mando kaki Mando kaki? Un po' mandorla e un po' kaki Anche se è fatico un po' ad adeguarmi al loro basso livello culturale Fa una cosa normale, fio mio Va a giocare a pallone, picchia un amichetto 20, 5, 43 Ma lo sapete chi è che ha vinto 100 milioni? Noi no! Quanto prevedevo? Esagera, 150. Me l'aveva giurato in confessione, giurate che non erano stati loro. Io non ho vinto. Sicuro? Fuori famo? No, te ce li porto domani. Ti predo ancora. Ma che pensi ci data? Ma non c'è il segreto della confessione? Sì, ma no quando dici le cazzate, però, eh? Milano. Siamo in Europa. Un'ultima cosa per la colazione. Siete vegani? No, Dettore Secca, sulla Prenestina. C'è presente? Con uno con i soldi non ci potrei mai stare. I classici cafoni. Quello che parcheggia in seconda fila. E' Carla. È l'università del matrimonio nostro, no? La verità, è che te ve lo fa fa' gli auguri, tasto amico mio! Buttiglio albano? Eh, eh. Felicità. I ricchi di oggi sono molto diversi da come se li immagina la signora. Eh, vabbè, ma allora amparameli, no? Il tuo sguardo innocente in mezzo... Io vivo di rendita. L'ascito ereditario. No, l'ascito di culo, lei? Felicità. Ah, sapete quella del pappagallo che gli sudano le palle? Mmh. Ma non so questo sapone! E' un couscous con formiche rosse del Madagascar. Mortacci vostra! Ci vediamo al cinema a Natale! Ciao ragazzi, oggi ho per voi un'altra top ten molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svelo una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il decimo posto dove troviamo la donna più bella del mondo del 1955 di Robert Z. Leonard con Gina Lollobrigida e Vittorio Gasman che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al nono posto vediamo il gatto pardo del 1963 di Lucchino Visconti con Bart Lancaster e Claudia Cardinale con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano che si piazza invece all'ottavo posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al settimo il piccolo mondo di Don Camillo del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 occupato da La Dolce Vita di Fellini che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori. E ad aprire la top 5 è per qualche dollaro in più di Sergio Leone con Clint Eastwood con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al quarto posto continuavano a chiamarlo a Trinità delle 71 di Enzo Barboni con Bud Spencer e Terencille con 14,5 milioni di spettatori. Al terzo posto abbiamo per un pugno di dollari del 64 di Sergio Leone naturalmente con Clint Eastwood e Gianmaria Volontè con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al secondo posto si piazza Ultimo Tango a Parigi del 72 di Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace del 55 di King of the Door con Audrey Hepburn e Vittorio Gasman che ha raggiunto ben 15,707,723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema perché quasi tutti i film della top 10 sono degli anni 50, 60 e 70 ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate e io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!